A sfatare veramente certi luoghi comuni. Chiamerei il Vice Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Cossa. Grazie. Una manifestazione che unisce memoria storica e celebrazione dei valori sui quali si fonda la nostra Repubblica. Abbiamo approfittato di questa occasione per partecipare a rivisitare l'ambiente umano e sociale del Piemonte di quel periodo, dove in nome di un comune ideale di libertà, molti italiani delle più varie provenienze, tra cui 417 sardi, un numero molto elevato se rapportato alla presenza dei sardi nel Piemonte di quel periodo, si unirono per liberare l'Italia dall'invasione straniera e dall'oppressione fascista. La scelta di chi abbracciò la lotta partigiana da parte di tanti italiani, né eroi né vigliacchi è stato detto, delle estrazioni sociali, culturali e delle regioni più diverse, fece emergere prepotentemente quegli stessi sentimenti che furono il legato delle lotte risorgimentali per costruire l'unità d'Italia. Nelle fasi che determinarono il crollo del regime, la Sardegna ebbe una particolarità, fu l'unica parte d'Italia in cui non vi fu una vera lotta di liberazione. Essa perciò non visse direttamente la tragedia del nazifascismo, ma neppure l'entusiasmo e la poesia di quei momenti che caratterizzarono la liberazione. Eppure il contributo dei Sardi alla resistenza non mancò, anzi praticamente non esisteva formazione partigiana in Italia che non avesse Sardi nelle sue file. I più rappresentativi sono stati ricordati in un libro dato alle stampe qualche anno fa dal presidente Tonino Mulas della Federazione e dell'Associazione dei Sardi in Italia. Si trattò soprattutto di militari di stanza nel continente, non dobbiamo dimenticare che per la maggior parte dei giovani Sardi all'epoca l'adempimento degli obblighi militari rappresentava l'unica opportunità per varcare il mare. Dopo l'8 settembre o perché sbandati e impossibilitati a rientrare a casa, perché i collegamenti da Civitavecchia furono interrotti, oppure perché le formazioni a cui appartenevano scelsero di ribellarsi e di aderire ai tedeschi, perché c'è la prospettiva della deportazione, molti di essi si trovarono a contribuire alla formazione delle bande partigiane. Particolarmente interessante il racconto della vicenda di uno di essi, liberato Prantedu di Arizzo, che giunse a Torino nel 1938, arruolato nel primo regimento Nizza e in Piemonte partecipò alla resistenza. Poi vorrei tornare un attimo su questa vicenda. Però non ci furono soltanto ex militari, ci furono anche civili, politici, perseguitati, vecchi antifascisti, incarcerati e confinati, come il vecchio amico di Antonio Gramsci a Torino, Pietro Ciuffo, Maurizio Garino, già dirigente della FIOM torinese, organizzatore dei consigli di fabbrica. Ma una figura di particolare spicco fu il professore di chimica dell'Università di Torino, Michele Giua di Castelsardo, il cui figlio Renzo. Il cui figlio Renzo, tra l'altro, morì da eroe nella guerra di Spagna. Combattendo contro i franchisti. Rifiutò Michele Giua di aderire al giuramento di fedeltà imposto dal fascismo a tutti i docenti universitari. Venne processato, assieme a Vittorio Foa e ad altri, davanti al famigerato tribunale speciale che lo condannò a 15 anni di carcere. Dopo la liberazione presiedente la Commissione Provinciale Torinese di Epurazione, fu consultore nazionale, membro dell'Assemblea Costituente e consigliere comunale e provinciale a Torino. Ma per i politici la strada della resistenza e della lotta armata fu, in un certo senso, facile. Perché cercata e attesa da tempo. Non così per le migliaia di soldati, di un esercito che si sfaldava in mille rivoli e che cercò di resistere alla prospettiva della deportazione in Germania e in Austria. L'ordine e la disciplina non erano più, una volta che aderirono alle bande partigiane, quelle a cui erano stati addestratti. Saltarono le gerarchie, i comandanti erano tali perché erano riconosciuti tali per i meriti acquisiti sul campo, per la fiducia che riuscivano ad avere dai loro uomini. Antonio Monni, sardo, era comandante di battaglione nella prima divisione Gramsci in Valsesia. Pasqualino Piras, comandante di squadra della quarta banda giustizia e libertà in Vallestura. Luigi Caffiero, di Cagliari, venne catturato e fucilato a Caselle il 31 gennaio 1945. Antonio Pirisi, nome di battaglia, mille lire, comandante di plotone nella divisione Valtoce. Luigi Fadda, socialista e magistrato, era rappresentante del PSIUP nel primo CLN della provincia di Alessandria. E vi furono i partigiani che furono condannati a morte per idono. Giuseppe Dejana, nome di battaglia, sardo, fucilato a Vercelli. Antonio Corso, impiccato pubblicamente nella piazza di Carignano, che chiese al medico che gli prendeva le generalità di correggere il nome del suo comune di nascita. Questo aveva scritto Nole, lui pretese prima di morire che venisse corretto in Nule. Raimondo Melis, operaio a Torino, trucidato a pochi giorni dalla liberazione, assieme al genero che era operaio della Fiat Grandi Motori. Altri ancora morirono in battaglia, come Luigi Piana, nome di battaglia Spavaldo, che perì a Coconato nel Monferrato. Alcune formazioni partigiane presero il nome di illustri sardi, caduti in battaglia, oppure protagonisti della lotta antifascista. in Piemonte operava la divisione Gramsci, in Valsesia. Vi era concorrenza, come è noto, tra le varie correnti politiche. Non mancavano gli episodi di settarismo, ma la guerra ritrovava giustificazioni morali ulteriori rispetto a quelle apprese nell'accademia militare da tutte queste persone. Spinse molti che avevano trovato un rifugio tranquillo in attesa che passasse la burrasca a prendere la via della montagna. Fu così per Sergio Piana, di Sassari, partigiano in Val di Lanzo, nella diciannovesima brigata Garibaldi-Giambone. E fu così per Liberato Pranteddu, nome di battaglia Libero, di Arizzo, che venne colto dall'8 settembre, mentre combatteva in Croazia, dove il suo regimento era a fianco degli Ustascia di Ante Paviric. Libero si unì alle brigate garibaldine operanti nelle valli pineirolesi nel febbraio 1944 e combatte a fianco di personaggi del calibro di Pompeo Colaiani, Barbato, più volte ricordato stamattina, e di Ludovico Geimonat, nome di battaglia Luca, che nel 1949 venne a Cagliari a insegnare filosofia teoretica all'università e su quei testi di filosofia molti di noi si sono formati. Gli anni della resistenza passavano per i sardi, come per tutti i combattenti dell'Italia meridionale, senza notizia della famiglia. Luigi Fadda, cagliaritano, nel Natale 1943, scrisse dal carcere di Alessandria dove era recluso «Ho ricordato altri Natali, di quando eravamo ancora bambini, nella nostra bella casa di Cagliari, aperta verso il mare, che forse a quest'ora non esiste più, dopo gli implacabili bombardamenti dal cielo. Vale la pena di ricordare che la città di Cagliari, medaglia d'oro al valore militare, così come proprio in questi giorni Torino ha celebrato Cagliari, in questi giorni Torino, il settantesimo anniversario dei bombardamenti, che lasciarono nelle strade numerose vittime civili. Da questo humus, che ha visto mescolarsi il sangue di italiani di ogni area geografica, nacque l'Italia della ricostruzione, nacque quella democrazia il cui valore non è mai superfluo a ricordare, anzitutto a noi stessi. Grazie. Grazie. Grazie.